Il tempo vola, la vista cala, l'avanzi, ti capiamo al volo, e l'ascolto sulla montatura, per guardare l'atletà, avanzi, vedi che ti conviene? Hai guardato le vallenture, gli assassini e signori che vengono, questa è la sfida più difficile, facciamo bene i risultati delle maledie, fosse guardare dentro di te, e tranquilla, che sono in città, lo fai, i nuovi episodi, domani alle 21 su Foxcrime. Fodd di Max, anteprima escursiva per i clienti Sky fino al 27 luglio, chiamalo 222 44 33 o vai su sky.it slash scopri di più. Questa non è la solita bruschetta, per farla ci vorranno anni di inviti, mesi di risate, è la tavola giusta, come quella di Franco, e su quella tavola, birra moretti, è la ricetta giusta, viva la semplicità, la tavola più che non è, e tu, perché non ti siedi con me, birra moretti, il gusto della sincerità. È la nostra energia, basta sapere come accenderla.